Il consumo è quasi di un'utilitaria. L'integrazione degli stranieri in Italia con una singolare iniziativa della Fondazione Ania. Giovanni Sperandeo. Guidare meglio e sentirsi più cittadini della nuova nazione nella quale si vive. Questa è la strada intrapresa dall'Associazione Italiana fra le imprese assicuratrici, in collaborazione con il Ministero dell'Integrazione, che presenta Drive in Italy, un progetto gratuito di educazione stradale per i migrati. Un modo diverso di intendere integrazione sociale e regole di vita. Non tralasciando però la conoscenza del codice della strada, vista anche l'alta percentuale di stranieri coinvolti in incidenti automobilistici in Italia. Sai le lingue disponibili, oltre all'italiano, arabo, romeno, inglese, cinese ed albanese, per un virtuale percorso in 12 tappe che porterà il conducente a scoprire i segreti della guida sicura e le bellezze della penisola. Partecipare è semplice. Basta avere una patente di guida a Vaida in Italia e collegarsi all'indirizzo web driveinitaly.smagnadisicurezza.it oppure al sito della Fondazione Ania e cliccare sull'apposito link. Ed il viaggio avrà così inizio. E per i migliori partecipanti un premio da brivido. Mille corsi gratuiti di guida sicura. Dalle teorie, subito alla pratica.